E mentre il Chelsea spende altri 200 milioni di euro dei suoi fantasoldi nel mondo reale la Lazio si muove nel mercato di gennaio è tipo la prima volta da quando faccio video sulla Lazio che sono contento, sono col sorriso dopo una sessione di mercato invernale non penso fosse mai successo, non perché sia successo chissà che cosa ma perché è successo qualcosa che no, cioè nel senso eravamo tutti rassegnati, già ci avevamo negli occhi il non si fa niente perché Fares non va in Turchia quella era la narrazione ufficiale e surprise surprise Fares non è ancora andato in Turchia per quanto ci sia tempo fino all'8 febbraio da quanto ho letto ma le mosse ci sono state lo stesso, la mossa, Pellegrini, ma va bene, cioè nel senso, allora partiamo da lontano, dall'inizio in questa sessione di mercato e anche dall'inizio del capitato si è evidenziata una certa necessità di rimpolpare questa rosa con due ruoli in particolare un vice immobile che potesse dare respiro a un Ciro che quest'anno ha più di qualche problema fisico e dall'altra parte un terzino di ruolo che potesse in qualche modo dare respiro al trittico Isai Lazzari Marusic affinché quest'ultimo non fosse peraltro adattato a sinistra essendo lui un destro è arrivato il terzino Mancino, Pellegrini, giocatore che personalmente apprezzo in maniera particolare nonostante, cioè al di là del discorso tifoso o meno, che in questo momento non mi interessa ma è un giocatore assolutamente validissimo che con Sarri secondo me potrebbe veramente fare un salto di qualità abnorme quindi è arrivato un giocatore funzionale, non è arrivata, che ne so, la sorpresa araba o il prospetto albanese o che ne so, il nuovo Pelè danese, il Cavani uruguaiano, cioè è arrivato un giocatore funzionale uno pronto, che sta già a giocare a pallone, non devi impararlo una volta è arrivato che è una cosa veramente inaspettata, sorprendente usatele dire e volevo, adesso c'ho la transfer market davanti peraltro è arrivato anche un Diego Gonzalez che dici chi è? Non lo so, mentirei se vi dicessi ah ho visto giocare al campione, non ho la più pari d'idea di chi cazzo l'ora sia però ne parlo come un'ala sinistra che leggevo il club di appartenenza, questo Celaya avrebbe richiesto espressamente che sia aggregato alla prima squadra è un 2003, quindi parliamo di un ventenne pieno e dicono, dicono, dicono giocatore interessante, tocca vedere però, cioè, due giocatori funzionali a progetto sulla carta poi è andato via Raul Moro che è andato a Realo Viedo è andato via Escalante che è andato al Cadice ma vi ricordate Escalante quando è arrivato? no, io vorrei, vorrei soffermarmi in questa fase su Escalante Escalante è arrivato quando abbiamo firmato per Escalante svincolato, sembrava che avessimo comprato Busquets Ciavio Iniesta ah, Escalante, è arrivato e non si è accorto nessuno è andato via e non si è accorto nessuno e poi, due mesi, che è andato a Tenerife ma, domanda che forse, ma due mesi non aveva rescisso non se ne era già andato? ogni tanto lo vedi che rientra due mesi però, vabbè al di là di questo è stato un mercato prorompente? no è stato un mercato intelligente? sì, sì, per una volta lo è stato e io non so come mettere in parole tutto questo ora è un mercato perfetto? se poteva fare di più? assolutamente sì si poteva fare molto di più si doveva fare molto di più in questa fase in cui il campionato è quanto mai incerto anche per tutta la questione di giustizia sportiva e non solo si poteva fare di più essendo noi in questa fase per una volta sereni nel senso non ci hanno messi in mezzo in nulla cioè tipo siamo una delle poche squadre in questo momento che stanno là tranquilli sarebbe stato opportuno fare qualcosa di più in questo momento proprio a fronte di questa instabilità generale che non ci coinvolge però cioè nel senso mi tengo pellegrini va benissimo cioè è comunque è comunque un salto di qualità enorme rispetto alle nostre abitudini quindi va bene anche perché ripeto a me pellegrini piace tanto io speravo che arrivasse già da un po' esattamente come speravo che arrivasse Valeri che era la mia prima scelta ma quando la mia prima scelta da tifoso chiaramente quando si è accostato pellegrini ero molto contento perché onestamente tra Parisi e pellegrini io preferisco pellegrini io per cui sono convinto che peraltro possa fare molto bene il riscatto a 15 milioni è una bella cifra diritto non obbligo quindi se sarà degno sicuramente lo riscatteranno ma credo sinceramente che non ci saranno problemi tra l'altro apprezzabilissimo lui che si è decurtato parecchio lo stipendio a quanto pare pur di arrivare testimonianza di quanto creda in quello che è il progetto e credo e creda anche molto in quello che Sarri potrà dargli a livello professionale e non ho dubbi a riguardo perché insomma è uno che ha trasformato in un terzino tuttocampista Lazzari e Marusic con lui sembra Cafu voglio dire insomma parliamo veramente di un allenatore che certi giocatori riesce a valorizzare in maniera enorme pellegrini in questo senso potrà beneficiare tanto della cura Sarri però insomma ragazzi è incredibile per il resto che dire ragazzi io vivo con un po' di malessere il fatto che in serie A campionato di serie A il mercato sia ormai quello di gennaio una sorta di non so neanche come definirlo un momento tristezza ecco rispetto al resto del mondo perché guardate in Premier che è successo io continuo a chiedermi come sia possibile tutto questo ma forse sicuramente ignoro tante cose però guardi la Premier cioè oggi stavo stavo riguardando questa piccola parentesi internazionale stavo guardando un po' gli acquisti che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo e allora vedi Cucurella 65 milioni Cucurella è uno di quelli che se giocasse cioè Cucurella giocava nel Brighton un corrispettivo del Brighton in Italia potrebbe essere il Bologna se Cucurella avesse giocato per il Bologna l'avrebbero pagato 6 milioni a di tanto non 65 allora perché se giochi in Premier sei ipervalutato se giochi nelle altre parti del mondo te danno due sordi a meno che non stai in Portogallo perché pure in Portogallo almeno 200 milioni ti vendono nessuno io io veramente non capisco cosa ci sia successo e soprattutto vorrei sapere di chi è la responsabilità complessivamente per questo per questo orrore che viviamo in un campionato che era un tempo il più prestigioso e adesso è una sorta di vabbè comunque sia signori io sono contento cosa più unica che rara credo lo siano anche tanti altri razziali lo so se poteva far di più ragazzi però accontentiamoci per una volta di qualcosa di qualcosa perché ripeto noi solitamente a gennaio eravamo qui a fare le vedove di qualcuno mai arrivato e che non sarebbe mai arrivato e che arrivava solamente nella nostra testa questa volta qualcosa si è effettivamente concretizzato e quasi non c'è credo veramente quasi non c'è credo perché non era assolutamente quando hanno detto vabbè sfumato pellegrinetto vabbè tanto che c'erano dubbi e invece poi e invece poi quindi ragazzi noi ci aggiriamo domani post juve speriamo bene sempre forza Lazio e alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti.